ciao eccoci qui finalmente e dopo 50 e puzza giorni dopo più di due mesi finalmente usciamo tutti insieme vabbè non c'è papà c'è hanno tutti quanti la mascherina qualcuno ce l'ha diciamo qua sotto alcuni sono tolte tipo giana ma ce l'ha in mano anche loro due la dietro e il comune dove abitiamo ci ha dato una mascherina piccolina anche per pia che si allaccia con dei nastri qua dietro solo che pia non la vuole tenere le abbiamo messa su ma appena nella tiro su sul naso non la vuole tenere vabbè comunque speriamo in bene cosa vi devo dire adesso noi partiamo ci vediamo dopo ciao Siamo tornati a casa, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, adesso vado un attimino a pulire i fernelli che sono sporchissimi e poi prepariamo la cena. Farò delle fettine di lonza insieme all'insalata e ai pomodori che porta a casa Maurizio, comunque appena arriva vi faccio vedere quello che ha preso e domani purtroppo dobbiamo uscire di nuovo perché devo portare Giara dal dentista, però siccome, già oggi siamo passati a trovare mia sorella, però siccome domani abbiamo l'appuntamento proprio presto e loro non me li posso portare assolutamente dietro, me l'hanno proprio detto, li devo lasciare di nuovo lì, quindi li lascerò di nuovo una mia sorella e poi, cioè vado anche io e poi, niente, poi torniamo a casa. Quindi vado a pulire qui, devo mettere a posto dell'aroma, appena arriva Maurizio vi faccio vedere quello che ha preso. È passato al Penny Market, quindi ci vediamo. Abbiamo preso le uova fresche, quattro confezioni, poi abbiamo preso il formaggio per papà e Gabriele, tre, invece per noi ne abbiamo presi sei pacchi, invece poi abbiamo preso le mere rosse, le pere, le arance, l'insalata, due grandi pacchi di pomodori che mi piacciono un botto e poi le patate al forno. Eccoci, stiamo andando dal dentista. Gli altri bambini, come vedete, non ci sono perché sono da mia sorella, perché ovviamente non posso portarli nello studio dentistico, non possiamo arrivare là così tanti, quindi andiamo solo io e Giada e gli altri sono lì. Giada ha una mascherina che è quella che in teoria dovrebbe mettere Pia, ma che non c'è verso di farle tenere addosso. Quindi adesso l'ho messo a Giada e in effetti è proprio della sua misura. Dopo, prima di scendere, poi vi facciamo vedere. Il caldo è dilagato in una maniera impressionante, qui il termostato, aspettate che metto la cintura, della macchina segna 26 gradi. 26, cioè siamo matti, cioè veramente passiamo da giorni in cui non fa caldo, addirittura quasi fa freddo, a giorni che non riesce ad espirare. Infatti sono contenta di aver lasciato un po' la finestra aperta ai cani, sennò mi scoppiavano, povere bello. Io tolgo quel pezzo, questo, perché ogni volta sembra che c'è qualcuno che mi sta strangolando. C'è gente in giro, tutta quanta con la mascherina, non tantissimo però qualcuno c'è, anche perché obiettivamente fa veramente caldo, cioè a quest'ora, anche se infatti non uscirei comunque. Infatti vi dicevo delle passeggiate, le andremo a fare, perché se inizia a fare questo caldo qui, dalle cinque in poi, così loro hanno il tempo di finire le video lezioni, di fare i compiti e poi si può uscire. Io appena sono entrata in macchina, ho scudato come... Poi era il sole la macchina. Speriamo di trovare parcheggio, perché siamo sull'orlo del ritardo, quindi spero di trovare il parcheggio. Naturalmente no, questo è chiaro. C'è ma... devo fare settecento manone. Non ci sto. Ho la macchina troppo grande. Adesso cerchiamo il parcheggio. Sono io già finissima perché la mamma ce l'ha rotta. Lì c'è il parcheggio, ma non ci sta la nostra macchina. mamma mia. Abbiamo comprato una macchina troppo grossa. Eh, se no non ci stiamo tutti. Vediamo se ne troviamo. Perché non ci stiamo tutti. Oh, qui? Che stupida. E' pure all'ombra. Beh, un po' dovremmo camminare. Eh, vabbè, un po' camminiamo però. Eh beh, ci fa bene camminare. E' un po' caldo. Per volte c'è una mascherina. Ok. E ci siamo. Parcheggiolate. Perfetto. Le tiriamo sulla finestra. Ma sono jeans? No, sono leggings che sembrano jeans. No, sono jeans attillati. Ah. Molto bello. Noi adesso scendiamo. Ecco qua qui, vedete? E' molto meglio questa qui per lei. Io ce l'ho. E andiamo. E' molto bello. 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 E' molto bello eccoci di ritorno allora ha fatto tutto glielo ha chiuso di nuovo ve lo faccio vedere? no glielo ha prima pulito poi glielo ha chiuso di nuovo quando mi andavo a ravanare da questa parte mi faceva un po' di male perché lì è proprio il punto dove mi è andata la carica ora mi fa un po' male è perché è andata a ravanarci dentro però mi fa un po' male glielo ha dovuto disinfettare ha detto che non glielo chiude perché ha paura che se l'infezione glielo chiude definitivamente poi gli viene l'infezione sotto e quindi ancora peggio perciò non glielo ha chiuso non glielo ha chiuso definitivamente non mi può togliere per ora il controllo tra sei mesi però ha detto che se per caso si leva la pastina o lei dovesse avere male eccetera di chiamare stanno asfaltando la strada perché è proprio ora perché ne so ne dobbiamo passare questo caldo poi e loro asfaltano la strada è proprio che dico a tardo in questa strada 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 non mi riusciamo a dire niente poi se non abbiamo niente di importante da fare o che diciamo non si può diciamo rimandare che è un appuntamento importante noi non usciamo anche perché Pia comunque non c'è verso di farle tenere la mascherina addosso e quindi essendo così piccola non è che posso metterla comunque in pericolo staremo lì sotto vi posso dire una cosa ragazzi ci sono dei giorni che fa caldo dei giorni che fa freddo questo qui è uno di quelli che fa caldo in realtà è super super caldo è caldo da morire c'è un sole che spacca le pietre vabbè noi adesso andiamo e ci vediamo più tardi ciao e benvenuti in questo nuovo giorno questa qui è Pia che urletta allora dopo aver dato colazione a lei le ho dato 5 biscotti schiacciati con un omogeneizzato di frutta alla pesca adesso vado a far colazione io qui ho la mia tisana che mi aiuta a mandare giù i miei integratori sanno in pastiglie non so come mai li riesco a mandare giù meglio con una bevanda calda a proposito a proposito di questi integratori se volete più info vi lascio di sotto in descrizione un link che vi riporta a me direttamente su whatsapp così posso darvi le informazioni che vi servono se vi interessa poi ho fatto delle fette biscottate con se riesco ve lo faccio vedere un microbo di miele sopra perché non amo particolarmente il miele io perché è molto dolce e quindi però per condirle un po' ecco poi la mia pera cioè una pera di queste sono piccoline e poi ho fatto le mie due uova solo che siccome non ho prosciutto cose simili ho messo in mezzo un po' di insalata e niente in pratica come per chi mi segue e magari è interessato all'apporto di un control diet te lascerò sempre in info box il vi lascio sempre il link qua sotto per il gruppo facebook per il gruppo facebook e comunque sono un giallo tre fette biscottate un rosso due uova più o meno qui di insalata c'è un verde la pera è un viola e il miele mi sembra che è concesso tipo uno o due cucchiaini al giorno io se diciamo che ne ho spalmati due su tre fette biscottate quindi questa è la mia colazione adesso la vado a fare così poi inizio finalmente le faccende ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A me è piaciuto tantissimo perché il tema è proprio cucinare e io adoro cucinare. È la passione più grande che ho e infatti si vede. Mi piace anche mangiare e quindi è stato bellissimo per quello perché appunto parla di cucina e di lavorare su se stessi anche per imparare a cucinare sempre meglio. Che è una cosa che io faccio da sempre ma mi ha dato spunto per una cosa che vorrei chiedervi. Allora praticamente io avevo pensato di iniziare una sfida, una rubrica dove in cui io dovrò cucinare tutte le ricette, tutte, di questo libro qui che è la pentola d'oro. È un libro che mi è stato lasciato in eredità da mia suocera e da qui certe volte ho preso spunti e ricette, però non tutte. E invece sarebbe interessante secondo me provarle tutte, anche quelle che magari viste così non proveremmo mai, ma invece provarle. Tipo non so, ci sono anatra che io non ho mai cucinato, non ho mai comprato, non ho mai visto neanche. E quindi anche per i bambini per farli assaggiare anche altri gusti e per mettermi alla prova io. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Le ricette, quelle tipo della pasta o dove serve della pasta saranno anche in versione senza glutine. E mi porto in control diet che è l'alimentazione che sto seguendo in questo momento. Ora, per pranzo facciamo andare, erano rimaste due vaschette di prosciutto, ho messo un po' di parmigiano nel riso in bianco che ho fatto cuocere ieri con la tecnica dell'assorbimento da mettere insieme a un chili che ho fatto ieri. Adesso ci vado ad aggiungere circa 5-6 uova e poi la faccio cuocere in padella con la carta da forno. E avevo fatto anche una ricetta molto molto tempo fa della frittata di riso in padella. E magari se mi ricordo ve la lascio qui sotto nell'info box. Quindi adesso mi muovo così almeno puoi mangiare. Allora, è stato un pomeriggio impegnativo perché abbiamo dovuto fare i compiti, anzi mi devo ricordare di mandarli. E niente, quindi sono stata dietro i bambini a fare i compiti, volevo fare un dolce perché oggi è l'anniversario di matrimonio mio e di Maurizio. Oggi sono 15 anni che siamo sposati in chiesa perché noi ci siamo sposati sia in chiesa che in comune. Ma questa qui poi è una cosa che magari vi racconterò in un altro video. E volevo fare una torta per festeggiare però appunto dovendo stare dietro loro a fare i compiti non ce l'ho fatta. E la farò domani se tutto procede secondo i piani. Adesso sto preparando la cena. Farò le coscette di tacchino. Adesso vi faccio vedere poi velocemente come le faccio, niente di che. E poi ho iniziato, ma è una prova così mia perché avevo da farci le patate assieme. E volevo cambiare un po' per non farle sempre al forno, far cuocere tutto assieme. Allora ho provato una ricetta che ho trovato sul libro della pentola d'oro. E vediamo come vengono. Non le avevo mai fatte così ho dovuto arrangiarla un pochettino perché moltiplicando la dose che davano loro per 4, se mettevo tutto il burro che dicevano dovevo mettere 4 etti di burro. Siccome non mi sembra il caso. E ne ho messi solo 2 etti. E vediamo come vengono comunque poi come risultato finale, se sono buone. Sicuramente avranno un gusto diverso perché io non ho mai messo il burro nelle patate. Quindi vedremo quel che ne uscirà. Comunque adesso vado a prendere le coscette così vi faccio vedere come le vado a preparare per metterle poi sulla teglia del forno, sulla leccarda, con la carta da forno sotto e le faccio cuocere semplicemente nel forno santo forno. Praticamente le vado a mettere tutte dentro questo contenitore perché qualcuna è un po' meno congelata e qualcuna invece è super congelata. Ne ho preso 7, tanto poi Pia l'affaggerà da me quindi... Vabbè, a lei ancora non serve una tutta sua. Allora a questo punto... Scusate. Ok, vado a prendere sale, olio, un pochettino di cipolla in grado. Scusate. 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 No, dimmi. Potete fare delle sabbia, che vi volevo le raccolte. Scusate. Si dice, già, la ri raccoglera. metto un po di cipolla in grano lì e comunque non è che posso esagerare perché la mangiano anche i bambini perciò ma non ho più specie potrei metterci della cannella mettiamo un po di noce maschile adesso praticamente le vado a girare un po così ecco mi si è sporcata anche la le prendo poi una a una e le frego con in modo che vedete adesso vado a prendere ora levare il colino delle spezie vediamo si trova un aiutante c'è un aiutante mi devi prendere la carta da forno per piacere faccio così le frego bene poi adesso già da prendere la carta da forno ma sono dimenticata io sono la sua prossima aiutante io la vado a mettere in un altro verso in questo verso solo che no no ok vai pure vai oh mamma faccio così con tutte quante scusa mano e le vado a mettere sopra la placca del forno sono freddissime perché sono ancora più che congelate accendo il forno a 180 gradi adesso prima come faccio? eh bisogna levarci tutto ancora la dente mi stanno congelando le mani non va bene perché sono ancora fredde sono ghiacciate quindi nel forno anche se il forno si sta ancora scaldando perché così si scongelano un po' mi raccomando a 180 gradi si intanto che lui arriva in temperatura allora si scongelano un pochettino perché sono ghiacciate sono ghiacciate eh sì stai di un po' cioè hai fatto bene a mettere i 180 gradi sai perché perché comunque queste sono ancora gelate di loro quindi poi appena entrano nel forno si riscalderanno un po' adesso tutto quello che è rimasto qua lo prendo lo prendo e lo vado a spalmare ancora bene sopra le in modo da non perdere le cose mamma ma io quelle cose non le avevo mai viste sono quelle lì di un po' le enorme no sono di tacchini mio dio come sono enormi i tacchini mi hanno tagliato il piede più o meno e anche la coscia mi hanno tagliato il piede della coscia è rimasto questo pezzo di tacchino e questa coscia è una coscia enorme mamma ma i tacchini sono quelli che fanno le uova ma no i tacchini non fanno le uova le galline fanno le uova ho pure i pulcini ho i pulcini ho i pulcini ok a questo punto come vi dicevo svuoto il forno ce le metto dentro e le lascio cuocere non so in realtà per quanto tempo io da quando si scalda il forno li infila lo guardo guardo quanto tempo ci mettono e poi ve lo lascio qui in sovrappressione quindi adesso le vado a infornare Gabriele viene a staccare perché ho le mani un te mi sono dimenticata come sempre di mettere sale quindi andiamo a mettere un pochettino sopra ma non troppo sennò poi papà dice ah papà no quando le andrò a girare penso che le girerò all'incirca quattro volte lo andrò a rimettere sia dall'altra parte che poi di nuovo da questa qua comunque vi farò vedere tutti quanti i passaggi quindi per adesso mettiamo il sale e inforniamo allora come vedete non si è neanche ancora scaldato tutto ma io adesso le vado a girare perché iniziano a friggere così ci metto sopra il sale adesso Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.